Quella sensazione che conosciamo tutti, arrivi a fine giornata dopo il lavoro e hai il collo completamente dolorante, la base del collo completamente dolorante e vuoi un esercizio che non sia il classico massaggio perché solo al toccare ti fa male, senti che tutto è infiammato quindi vuoi un qualcosa e quel qualcosa che ti fa star bene subito e senza andare a massaggiare o cose impegnative, te lo do subito, ti serve solamente uno spigolo, quindi può essere di parete, una colonna come ho io, oppure spigolo di una porta, guarda facilissimo, andiamo a lavorare sul posizionamento della scapola e del collo in modo che la muscolatura si rilassi, andiamo subito a vedere l'esercizio Bene, allora che cosa facciamo? Innanzitutto portiamo giù la scapola mettendo il braccio così la parete ce l'ho dietro, lo spigolo così, quindi in questo modo, diciamo che se ho la mano giù così è molto facile che tu vada in su in avanti con la spalla, vedi? Se io faccio questo ti viene molto più facile spingere la spalla e la scapola in giù e indietro, lo vedi? Quindi, così, no? Per capirci, così Una volta che siamo così, appoggiamo la scapola, ok? Sul, sulla parte piatta dello spigolo qui, ok? Quindi qua dietro io non ho niente, lo spigolo è qua Cioè così In questo modo fisso la scapola al muro, la testa, anche se stai in avanti, non preoccuparti Adesso che cosa faccio? Allungo il braccio per non stare così, in realtà puoi stare anche così Però se ti fa male o una posizione scomoda andiamo così A me interessa che la tua scapola resti incollata alla parete, ok? Adesso portiamo la testa indietro, se riesci a toccare lo spigolo, meglio se non ce la fai, nessun problema Visto che la scapola è incollata, diciamo, virtualmente alla parete Questo mi serve per bloccarla E poi con la testa tireremo a destra E con la mano sinistra tireremo a sinistra In questo modo manteniamo giù la scapola E percepirai una tensione dentro il braccio A livello della spalla e a livello della muscolatura del collo E torno così Poi cosa faccio? Stacco un attimo e vado più giù con la scapola Quindi la metto sempre più giù, sempre più lontana dall'orecchio Perché dobbiamo ovviamente combattere questa posizione Quindi vado un po' più giù magari Bene Allungo il collo Tiro con le dita, dissi la mano sinistra E vado Quindi tiro con le dita della mano sinistra Tiro con la testa a destra Mantengo E torno così Vado ancora un po' più giù Ovviamente posso piegare le gambe Stacco un po' la lombare dalla colonna Ok, dalla parete Non serve che sto attaccatissimo Posso un attimo staccare E di nuovo Così Vedi che con la testa sono apposta sullo spigolo Perché posso andare un po' indietro Vedi? Così Se riesco Tiro E torno indietro Bene, riassumendo Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sì che la scapola resti in una posizione bassa E abbiamo allungato le linee muscolari Che vanno dalla base del cranio alle dita Quindi abbiamo rilassato tutta questa parte Che ti farà scendere giù la tensione Che hai accumulato tutto il giorno Ok? Quindi abbiamo lavorato queste linee in discesa Verso il basso Con questo semplice movimento Percepirai questo beneficio incredibile Infatti proprio sentirai Che la tensione è diminuita o non c'è più Contraindicazioni Sempre ce ne sono Non è un movimento così grave Però quello che ovviamente Quando hai delle ernie cervicali Anche gravi Non devi proprio tirare tanto Perché magari puoi schiacciare E dopo ti fa male Quindi occhio Vai sempre Ti consiglio lentamente Prova Sai qualche ernia Appena vedi che ti schiaccia troppo Magari interrompi O fai qualche altro esercizio della web Qualche altro video che ti propongo Dove magari lavoriamo di più il braccio Dove non incliniamo tanto la testa Tante contraindicazioni Non ce ne sono appunto Perché è un movimento semplice È alla portata di tutti Quindi veramente ti consiglio di farlo Fammi sapere come è andata Lasciami un commento Se hai qualche dubbio Ti risponderò Metti un like se ti è piaciuto Fallo sapere ai tuoi amici Falli provare questo esercizio Anche alle tue amiche E ci vediamo al prossimo video Iscriviti al canale E buona giornata Ciao